Claudio Chiappucci, un grande nome dello sport italiano, un grande campione del ciclismo, oggi qui accompagnato da Clementina in tutt'altra veste, quella appunto di esperto professionista nel mondo dei distillati. Come nasce questa passione così diversa dal mondo dello sport e come è diventata una professione? Io girando per il mondo mi capita spesso di essere in mezzo a cantini, a produttori, che poi diventano anche amici col tempo, quindi la cosa che mi è sempre piaciuta è un po' degustare e valutare tutti i prodotti che mi capitano per le occasioni in cui io partecipo, a volte sono delle manifestazioni reali, a volte sono dei passaggi e poi così quando si è meglio Clementina ho scoperto un po' cosa di più nel mondo del room, che era una cosa un po' più, diciamo non faccia parte del mio mondo, io ero più sulle graffie, i mari ruschi, il room ho cominciato a trezzarlo, ho cominciato a avere delle elucidazioni un po' più importanti per conoscere un prodotto che ha le giuste qualità e soprattutto questa azienda, che è un room agricolo, è un room che insomma a chi piace, a chi conosce questo prodotto lo apre. E tutto questo come vi ha portato a entrare in contatto con la famiglia Peirano e a collaborare con questo evento di oggi? E questo diciamo che è più lei indicata a raccontare la storia, io sono una conseguenza che mi sono aggregato anche per altre motivazioni, quindi mi fa anche un po' piacere di valutare un po' come l'ambiente, conosco anche altri personaggi, perché poi in questo mondo ci ritrovo anche in altre occasioni, in altre situazioni. E tra l'altro domenica io l'ho passato anche lì qua con il Granfondo di Loano, il bicicletto, quindi gira e gira sta sempre qua. E ci siamo incontrati quest'estate perché veniamo a passare le vacanze in Viglia, quindi... Infatti stavo dicendo, le occasioni a volte anche se non le programmi vai più conti anche per il tuo caso, un po' a teatro da dentro, poi sfrutti un po' anche questi canali comunicativi, si allarga un po' il mondo che conoscevo un po' più rispetto a qualche anno dietro, adesso con qualche cosa in più che mi fa piacere anche per la passione personale, anche per qualcosa culturale, culturarsi anche in un mondo che magari non è stato il mio mondo, ma è bello ad entrarsi in qualcosa di nuovo. Paolo Perano, è un'emozione avere come testimonial dell'evento un nome conosciuto come il Diablo Chiappucci. Lo ringrazio, è un grande piacere avere lui e Clementine che rappresentano questa grande azienda di Romandripoli e spero che vengano intanti da sentire.